Quando si rimane chiusi nei propri pregiudizi, ossia schiavi delle idoli di un falso benessere, quando ci si muove dentro schemi ideologici o assolutizzano leggi di mercato che scacciano le persone, in realtà non si fa altro che stare tra le strette pareti della cella dell'individualismo e dell'autosufficienza, privati della verità che genera la libertà. E puntare il ditto contro qualcuno che ha sbagliato non può diventare un alibi per nascondere le proprie contraddizioni. Amonendo certe forme di ipocrisia che vedono nelle sbarre l'unica soluzione agli errori commessi, Papa Francesco ha voluto invece rivolgere parole piene di speranza ai mille detenuti che hanno preso parte alla messa per il giubileo dei carcerati. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare, di cadere, ma la misericordia può guarire ogni ferita e non c'è cuore che non possa essere guarito dall'amore di Dio. Nella certezza del perdono il pontefice ha invitato tutti a non rinchiudersi nel passato ma guardare al futuro con fiducia, un avvenire che ha ancora tutto da scrivere. Il giubileo dei carcerati è tornato tra i pensieri di Papa Bergoglio anche alla fine della recita dell'Angelus quando ha chiesto un miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri affinché sia rispettata pienamente la dignità umana dei detenuti. Inoltre, desidero ribadire l'importanza di riflettere sulla necessità di una giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società. In modo speciale, sottopongo alla considerazione delle competenti autorità civili di ogni Paese la possibilità di compiere in quest'anno santo della misericordia un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento.